A proda oggi in Consiglio dei Ministri il caso dell'anarchico pescarese Cospito. Lo Stato non scende a patti con chi minaccia, lo dice chiaro e forte al termine della settimana di mobilitazione anarchica per l'abruzzese Alfredo Cospito. Con attentati a sedi diplomatiche, Molotov contro un commissariato di polizia, busta con proiettile inviata a un magistrato e disordini di piazza. Palazzo Chigi sbarra la strada ipotesi di clemenza per il 55enne pescarese detenuto col 41 bis nel carcere di Sassari. Non ci sta il legale dell'anarchico Flavio Rossi Albertini. Qui non si discute, dice, se cedere le pressioni ma se ricorrono le condizioni per mantenere il mio assistito al 41 bis. Cospito è arrivato infatti al giorno 102 di sciopero della fame, ha perso 40 chili e le sue condizioni di salute, ha riferito il Garante Nazionale per le Persone Private della Libertà, Mauro Palma, sono in progressivo deterioramento come confermato dal suo medico personale. Da qui la richiesta di trasferirlo in tempi brevi in un altro carcere, dotato di una struttura in grado di garantire un immediato intervento sanitario se la situazione dovesse peggiorare. Il legale ha presentato un ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha respinto un reclamo contro l'applicazione del 41 bis per quattro anni. L'udienza sul caso è stata anticipata il 7 marzo per l'anarchico che sta scontando condanne per la gambizzazione nel 2012 del dirigente di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e per l'attentato del 2006 alla scuola Lievi Carabinieri di Fossano. Il ministro della giustizia Carlo Nordio domani e martedì in commissione alla Camera risponderà alle interrogazioni dei parlamentari sul caso, ricordando però come spetti all'autorità giudiziaria poter disporre di una sospensione della pena o chiedere al ministro una revoca del regime speciale ed ai magistrati al momento non sono arrivati segnali. Secondo il senatore Dem Walter Verini invece bisogna evitare da parte dello Stato che un carcerato come cospito muoia in carcere. Per il legale Rossi Albertini non è una questione di muscoli ma di diritto di interpretazione estensiva di una norma eccezionale. Il 41 bis dovrebbe essere applicato nei casi tassativi previsti dalla legge e una norma di stretta interpretazione. Per cospito è stato ampliato, dilatato il perimetro applicativo e dopo 102 giorni di sciopero della fame è ancora in attesa, conclude, della decisione del ministro. Intanto, notizia di stamani, il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio a Palazzo Chigi e all'ordine del giorno della riunione in forma una nota figura tra l'altro un'informativa dei ministri degli esteri, dell'interno e della giustizia proprio sul caso cospito.